Una buona serata edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la cronaca e con l'omicidio di Marco perché nel pomeriggio si è tenuta l'autopsia sul corpo di Fausto Di Marco. Intanto gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire quanto accaduto all'alba di domenica. Ritenuta attendibile la super testimone del delitto. Il servizio è di Alfredo Primante. Vediamo. Il rione Filippone di Chieti si è mobilitato con una raccolta fondi per pagare il funerale di Fausto Di Marco ucciso da Emanuele Cipressi nella notte tra sabato e domenica con un collo di bottiglia che gli ha reciso la carotide. Sono tantissimi i locali dove si può donare un contributo libero. Intanto davanti al kebab Mian Donner di via Pescara dove è avvenuto il delitto continua a manifestarsi tutta la solidarietà della città che non riesce a capacitarsi di un gesto così efferato e inspiegabile. Solidarietà che corre anche su Facebook e che arriva da un grande autore della musica italiana, Angelo Branduardi, che in un post ha voluto ricordare la passione per la musica di Fausto strappato alla vita, scrive Branduardi, in maniera brutale ed assurda. Era musicista di gran talento e ragazzo sensibile ed era un branduardiano come potete ascoltare in questo video. Un abbraccio ai familiari e agli amici per questa grave perdita ma Fausto Di Marco ci seguirà ancora dall'assù. Nel frattempo sul fronte delle indagini si cercano conferme che dovrebbero arrivare dall'esame autoptico affidato dalla procura di Chieti e dal PM titolare dell'indagine Giancarlo Ciani all'anatomopatologo Pietro Falco, responsabile della medicina legale dell'ASL di Chieti, a cui parteciperà anche il consulente di parte Luigi De Pascalis. Cipressi ha raccontato il suo avvocato Roberto Di Loreto e è apparso molto provato mentre attende la fissazione dell'udienza di convalida del fermo. Punto certo per gli investigatori al momento è la testimonianza resa ai carabinieri della compagnia di Chieti, comandati dal maggiore Federico Fazio, della supertestimone, una trentenne che vive a Chieti che si è presentata spontaneamente ai militari per raccontare l'approccio respinto che avrebbe tentato Di Marco con lei poco prima dell'omicidio. Sentendosi respinto di Marco, secondo il racconto della testimone, le avrebbe lanciato un bicchiere che lei sarebbe riuscita a schivare finendo addosso a Cipressi. Il ragazzo, che in quel momento aveva in mano una bottiglia di birra, un po' per difendere la ragazza sua amica, un po' per il bicchiere, si sarebbe avvicinato a Di Marco, ne sarebbe nata una colluttazione con i due che sarebbero finiti a terra e con Di Marco, che si sarebbe rialzato perdendo vistosamente del sangue, raggiunto al collo probabilmente dal coccio della bottiglia. La ragazza a quel punto, alla vista del sangue pensando che Di Marco fosse solo ferito, sarebbe tornata a casa, ma quando in tarda mattinata appreso dai telegiornali che l'uomo era morto, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri. Ed è prevista per il prossimo 30 novembre la decisione del Gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea relativa alla vicenda sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010, che conta tra cinque imputati anche l'ex governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi, l'ex subcommissario Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni. L'udienza di oggi è stata rinviata al mese prossimo per la discussione delle parti e la sentenza. Nel procedimento sono imputati anche due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali. Nel merino della procura c'è il ridimensionamento dei tetti di spesa. Secondo l'accusa, Chiodi, coinvolto in qualità di ex commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità, avrebbe fatto firmare alle cliniche private contratti di prestazione di assistenza ospedaliera, collegando la firma al pagamento dei crediti che le cliniche vantavano nei confronti della regione. Secondo l'accusa, l'ex presidente, oggi presente in aula, avrebbe fatto pressioni sulle cliniche per far firmare quei contratti. L'ex governatore si è difeso dalle accuse ed ha attaccato la procura di Pescara che ha dichiarato, ha condizionato negativamente la sua esperienza politica e noi lo ascoltiamo. Guarda, io sono l'unico politico in Italia che ha a che fare con il mondo della sanità privata e che la magistratura ha coinvolto non perché abbia favorito la sanità privata e quindi mi accusano di violenza privata nei confronti delle cliniche private, di alcune cliniche private. Mi accusano di aver favorito Villapini che era in procedura del tribunale in quel momento, non è che era di una persona fisica e quindi era già fallita e quindi non si favorisce nessuno. Ho avuto continue azioni di disturbo sotto tanti punti di vista, compreso giudiziari nel percorso di risanamento che abbiamo voluto fare, anche di moralizzazione del sistema della sanità privata in Abruzzo che era caratterizzata dall'assenza di contratti nonostante che davi 200 milioni di Euro ai privati non c'erano i contratti, come la pubblica amministrazione che nei confronti di un fornitore non ha il contratto, non c'erano controlli, non c'era niente, era un mondo selvaggio, molto più compromesso di quello delle regioni dove esisteva la malavita. Credo che la percorso di Pescara abbia giocato un ruolo importante nella mia esperienza politica, positivo, negativo, ovviamente e chiaramente negativo, però vedo che in tanti altri casi, visto che già l'avano fatto anche con D'Alfonso, l'avano fatto con Venturoni, l'avano fatto con altri, non mi sembra che i risultati poi siano stati col tempo dimostrati, però insomma è stata una procura che è intervenuta spesso sulle questioni delle politiche, insomma, indirizzando in qualche modo o comunque condizionando. Il riassetto della sanità prosegue il suo percorso dopo la riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ora è la volta delle nomine dei nuovi primari. All'ospedale di Vasto, secondo l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, si giocherà una partita importante per aumentare i livelli qualitativi dei servizi. Francesca Romana Testi. Si continua a parlare di riassetti per la sanità, in questo caso si parla, l'attenzione è concentrata sull'ospedale di Vasto, in questo caso si parla anche di un passaggio di testimone per quanto riguarda le direzioni delle unità ospedaliere, in questo caso come si procede? Intanto mi sembra una grande opportunità per la sanità abruzzese, perché dopo la programmazione, aver definito quali sono le vocazioni e le destinazioni dei presidi, la palla vera passa al giocatore, cioè ai buoni e ottimi operatori che possono dare più qualità al sistema sanitario regionale. Pertanto la scelta dei nuovi primari, cioè dei nuovi dirigenti, è fondamentale perché sono poi i giocatori, gli operatori che fanno davvero la differenza. In questo caso per l'ospedale di Vasto più volte l'opposizione ha parlato di lavori di messa in sicurezza e di adeguamento. Beh, sono tutti lavori che stiamo facendo, intanto rispetto al Consiglio Comunale che noi tenemmo come Governo regionale insieme al Consiglio Comunale nel dicembre del 2014, gli impegni sono stati tutti rispettati. Da ultimo, lungodegenza, strocchi unit, rete di emergenza urgenza, i 118, le postazioni del Vastese, da ultimo l'investimento sul materno infantile per renderlo in sicurezza ed è in arrivo finalmente anche la determina dirigenziale da parte della Regione Abruzzo che completa sia su Lanciano che su Vasto la messa in sicurezza del percorso nascita. Poi ci saranno ulteriori investimenti con la realizzazione del nuovo ospedale, non mi sembra poca cosa. È stato trasferito all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Il neonato di tre mesi è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri a Scafa in provincia di Pescara. Le sue condizioni restano gravissime ma i medici della rianimazione di Pescara dove il bimbo è stato ricoverato ieri dopo lo scontro sono riusciti a stabilizzarlo. Stamane il trasferimento con l'eliambulanza del 118. Il piccolo è ora ricoverato nella rianimazione pediatrica del Salesi. Il neonato viaggiava a bordo di un'auto condotta dal padre finita contro un muro in seguito allo scoppio di un pneumatico. Sarebbe doloso l'incendio alla scuola Michetti di Francavilla. Il sopralluogo degli inquirenti avrebbe infatti consentito di rinvenire tracce inequivocabili sulla presenza la notte di domenica di alcune persone all'interno del plesso. Paolo Renzetti. È doloso l'incendio alla Michetti di Francavilla all'interno della scuola chiusa in questi giorni per lavori. Sono infatti state trovate tracce che fanno decisamente propendere per l'azione di qualche sconsiderato. Nel corso del sopralluogo i carabinieri della locale stazione hanno anche notato sul pavimento tracce recenti di impronte di scarpe. Per chi voleva creare danni alla struttura è stato poi semplice appiccare domenica notte il fuoco considerando la grande quantità di carta presente nell'archivio. Sono stati alcuni testimoni vedendo uscire del fumo dalle finestre del secondo piano a lanciare l'allarme e permettere l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Chieti che hanno domato il rogo in pochi minuti evitando che le fiamme potessero coinvolgere gran parte della struttura. Il rogo ha interessato l'archivio e alcuni corridoi. I danni sono stati limitati. Si sarebbe trattato di una bravata di qualcuno che sapeva che proprio per via dei lavori in corso in queste settimane non sarebbe stato complicato entrare nel plesso scolastico. Le indagini sarebbero però già a buon punto per individuare gli autori del gesto. Una telecamera posta nei pressi della Michetti potrebbe infatti aver ripreso coloro che sono entrati per appiccare il fuoco. Il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani ha stigmatizzato l'atto vandalico e invitato gli autori del gesto a costituirsi ai carabinieri. Rammaricata per quanto accaduto anche la dirigente scolastica della Michetti, Daniela Bianco. Ci spostiamo adesso all'Aquila dove per tentare di trovare una soluzione alla vicenda delle bollette non pagate ai progetti case il vice sindaco del capologo Nicola Trifu oggi lancia la sua proposta. Daniela Rosone. Sul caso delle bollette energetiche degli anni antecedenti al 2013 per il progetto Casa e Map arriva la proposta del vice sindaco dell'Aquila Nicola Trifu oggi. Prendiamo i consumi totali e dividiamoli per tutte le abitazioni del progetto dice ognuno pagherà per i metri quadri che li competono. Chi da questo risulterebbe sfavorito rispetto alle precedenti bollette pagate con l'effettivo consumo conteggiato dai contatori vedrebbe il comune intervenire in quella parte eccedente. Secondo i nostri calcoli ha detto Trifu oggi si tratta di una cifra a carico dell'amministrazione di 300 mila euro. Il contenzioso tra i cittadini e residenti nelle case post-sisma e il comune riguarda come sapete consumi mai pagati da residenti al comune che è intestatario delle bollette prima della lettura dei consumi individuati stessi regolarizzata a partire dal 2013. Si tratta di una delle emergenze post-sisma più sentite in città visto che per legge il comune dell'Aquila è proprietario di circa 5.600 alloggi che al momento vedono circa 5.000 residenti oltre a quelli che hanno lasciato successivamente questi alloggi per tornare a casa. C'è una proposta del comune ha spiegato Trifu oggi che vorrebbe spalmare la media dei consumi su ogni singola piastra cioè ogni palazzo e ridistribuirla sui condomini ma è tale la differenza di costruzione tra le singole strutture che si rischierebbe di fare delle ingiustizie. Ci sono case fatte meglio altre fatte peggio con persone che hanno avuto bisogno di più riscaldamento e altre meno. Dobbiamo cercare un principio di equità quindi se si procede per consumi medi generali e si applica questo criterio dice visto che il caso è nato per inersia del comune non per responsabilità dei cittadini è meglio che la differenza la metta il comune. I 300.000 euro che ballano saranno sicuramente meno dei costi delle cause che stanno nascendo. Cause che il comune perderà sicuramente dice il vice sindaco. Per lui si tratta di una transazione di una deroga tra le parti che inserisce in un rapporto di diritto civile quindi anche la corte specifica Trifuoggi dovrebbe essere d'accordo. All'interno di queste bollette che chiedevano il conguaglio per il 2013-2014 con il metodo del metro quadro erano contenute anche una serie di altre cose che non dovevano esserci. Per cui già mi risulta che siano partite delle comunicazioni ulteriori da parte dell'amministrazione che correggeva questa impostazione. Per il resto io credo che la situazione si debba risolvere comunque in tempi brevi, al massimo entro la fine del mese, il tempo di predisporre eventualmente una delibera di questo genere e di farla approvare in giunto. È una questione di qualche giorno e si saprà. Ci spostiamo a Teramo adesso dove l'associazione Arco mette a disposizione in maniera gratuita la propria struttura supportata dalla competenza di validi ed esperti professionisti in favore di tutti quei soci e coloro che si sono sentiti danneggiati dalla banca di Teramo. La sezione di Teramo di Arco Consumatori mette a disposizione la propria struttura a viste le tante richieste ricevute fino ad oggi. Nel dettaglio cosa farà? Noi metteremo a disposizione il nostro ufficio legale che comunque dà corsa a quella che è una richiesta piuttosto numerosa di ex soci e soci della BCC i quali si sono sentiti in un certo modo defraudati e quindi vorrebbero fare un'azione risarcitoria o che altro nei confronti del management. Chiaramente questa è una fase di ascolto e quindi noi stiamo aspettando anche altri soci che volessero aderire a questo tipo di iniziativa e quindi iniziare con una piccola investigazione e quindi acquisire dati necessari per poter portare avanti in altri ambiti questa nostra istanza. Da noi sono arrivate fino adesso una ventina di soci ma molte telefonate le abbiamo ricevute quindi per questo motivo dobbiamo dar corso a quello che è il nostro dovere istituzionale raccogliere tutte le stanze possibili e concentrarle in un'unica attività in modo tale da dare soddisfazione a tutti. Quindi non inizieremo se prima non abbiamo raccolto la maggior parte dei soci interessati. Le vicende sono state sviscerate già nei mesi passati attraverso i media su quella che è stata la svolta della BCC assorbita da un'altra banca per cui la BCC ha perso la sua capacità autonoma di gestire i propri clienti e i propri soci e quindi da qui è nata questa esigenza da parte dei soci di chi comunque non era d'accordo con questo tipo di attività di gestione e anche di management di percorrere una strada diciamo di risarcimento. Torniamo all'Aquila per un convegno sulla legalità che parlerà di anatocismo, legalità e usura. Temi caldi al centro del convegno all'auditorium del parco. domani con ospite il generale dei Carabinieri che per anni ha collaborato al fianco di Giovanni Falcone. Giorgio Alessandri. Crisi delle famiglie, anatocismo bancario ovvero la produzione di interessi sugli interessi. Signoraggio bancario, è un tema caldo come l'usura, una trappola in cui spesso si cade per l'illusione di riuscire a far fronte alle difficoltà. Argomenti di vita quotidiana in cui si parlerà nel corso dell'incontro, patroginato dal comune dell'Aquila, che si svolgerà domani, 11 ottobre, all'auditorium del parco e promosso da SDL Centro Studi S.p.A., società specializzata nell'analisi delle problematiche attinenti i rapporti con il sistema bancario e finanziario, nonché con soggetti deputati del recupero di imposte e tasse. Al convegno per la legalità parteciperanno Nicola Tifuoggi, vice sindaco e già procuratore generale, padre Quirino Salomone, frate Francescano, ex rettore della Basilica di Colle Maggio dell'Aquila, l'avvocato Biagio Riccio, avvocato civilista e patrocinante in Cassazione e il dottor Piero Carablò, presidente dell'SDL Centro Studi S.p.A., ex magistrato e primo in Italia ad aver ottenuto la prima sentenza italiana contro l'anatogismo bancario, dopo circa 40 anni di sentenze negative della Corte di Cassazione. Questo è un fenomeno purtroppo che oramai riguarda l'Italia intera, è partito già da qualche anno e si va sempre accenduando, perché purtroppo in via della crisi che tutti conosciamo, che sappiamo com'è, che continua ad andare avanti, più aumenta la crisi più le persone vanno in difficoltà con il sistema bancario e di conseguenza hanno bisogno di essere tutelati. Qual è la tutela a cui possono ricorrere cittadini in difficoltà? Ci sono tante tutele, ad esempio noi come azienda facciamo a livello promozionale un check-up gratuito a tutte queste famiglie che hanno difficoltà con i mutui delle banche, con eventuali affidamenti, le aziende, con tutti i rapporti che hanno, dopodiché noi li rendiamo i dotti della loro situazione e loro sceglieranno se è il caso di poter andare avanti per poter recuperare il mal tolto, proteggersi da queste situazioni che li stanno aggredendo o meno. Ospite d'eccezione, Angelo Pellegrini, generale dell'arma dei Carabinieri, è stato comandante della sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985. Come uomo di fiducia del pool ha portato a compimento le più importanti indagini nei confronti di Cosa Nostra. Sì, abbiamo questa grande opportunità, questo onore di avere con noi il già capo dell'antimafia di Falcone, colui che ha gestito tutto il maxiprocesso giù in Sicilia che c'è stato e viene per presentare un libro estremamente interessante. Il titolo del libro è Noi uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere e quindi lui sugli aspetti della legalità dell'usura ha tanto da parlare, da raccontare. E' giunta la sua ventunesima edizione, il premio dedicato a Paolo Borsellino. Quest'anno il tema sarà pensare legale per costruire legale. Al centro dell'attenzione, come sempre, i giovani. Edizione 2016 del premio Borsellino. Ogni anno c'è un tema diverso che persegue dei principi fondamentali. Quest'anno su cosa si concentra? Noi siamo soliti non parlare teoricamente della legalità ma portare dal vivo i testimoni. Lo facciamo nella giornata finale, lo faremo anche nell'avvicinamento alla giornata finale con il nuovo presidente del premio che è Francesco Forgione, già presidente della Commissione Antimafia e con il garante del premio che è Don Aniello Mancaniello. Cosa è fondamentale ricordare e soprattutto far sapere anche ai giovanissimi? Che la lotta alla mafia, alle mafie, alla illegalità si combatte tutti i giorni innanzitutto con se stessi. Cioè che siamo noi che diventiamo migliori, per farlo c'è bisogno di nutrirsi di alcune cose che sono intanto la conoscenza di quello che succede e secondo me stabilire relazioni positive con le persone che fanno questo di mestiere e lo fanno anche per missione. Le istituzioni sono presenti perché il messaggio è veramente importante ed è quello della legalità, soprattutto rivolta ai giovani perché è da lì che si comincia. Una 15 giorni ricca di iniziative culturali, sociali e anche trasversali che certamente vedono coinvolti in primo luogo il mondo della scuola perché queste iniziative sul senso di legalità in primo luogo ai giovani devono essere indirizzate. Ricordando un grande italiano, Paolo Borsellino, magistrato che Cosa Nostra ha fatto saltare in aria in una calda e torrida estate del 1992. Il suo ricordo ci guida ieri come oggi alla ricerca di una società migliore in cui si sia pronti ad affrontare le grandi sfide che ci sono avendo ben solidi e saldi dei valori. Accomunati dalle condizioni lavorative e dalla transumanza che ha costretto la popolazione a lasciare la terra nativa, la città di Castel Gandolfo ha voluto assegnare la cittadinanza onoraria al sindaco di Crognaleto Giuseppe D'Alonso. Su proposta della giunta comunale di Castel Gandolfo, il sindaco di Crognaleto ha ricevuto l'onoreficenza della cittadinanza onoraria per le attività svolte in favore delle collettività che accomunano i due paesi dei rispettivi comuni, Pavona e Cesa Castina. Il sindaco di Castel Gandolfo, Milvia Monachesi, sabato scorso ha conferito l'atto al sindaco Giuseppe D'Alonso nella sala civica alla presenza di tanti cittadini e autorità locali. Una gioia, una soddisfazione e un orgoglio del primo cittadino che in un certo qual modo ha portato questo riconoscimento non per se stesso ma per una collettività importante sia di Crognaleto e sia del paese di Cesa Castina. Questo legame nasce appunto dalla transumanza dei miei pastori che da Cesa Castina vanno verso il paese di Pavona, una frazione del comune di Castel Gandolfo e poi a tutte quelle situazioni che si sono spostate a seguito della grande guerra, dell'occupazione, insomma lo spopolamento della montagna in un certo qual modo e l'ospitalità di questa bellissima città come Castel Gandolfo. La capacità delle persone provenienti da Crognaleto di rimanere attaccatissime alle loro origini è singolare, ogni cittadino che è qui ha anche una casa a Crognaleto e ha voluto rifarla qui, questo esprime proprio una voglia di integrazione e nello stesso tempo di mantenere le proprie radici. È un esempio rarissimo oggi perché invece si cerca, ognuno è diffidente anche di quello che conosce da sempre, c'è proprio la tendenza a rintanarsi nella paura, invece i cittadini di Crognaleto hanno avuto coraggio, hanno avuto forza, hanno avuto determinazione, hanno avuto amore per la loro terra e hanno amore per la loro terra e amore anche per questa terra, quindi veramente un grande esempio positivo. Il programma ha un fine ed è quello di unire i territori in un gemellaggio nella virtù della fratellanza delle popolazioni, delle unioni, ancora ricordo il 24 mattina il sindaco alla mattina alle 7 mi telefonò per conoscere lo stato del sisma nel mio territorio, quindi questo sentimento che cresce sempre più, arriveremo appunto un giorno dove uniremo i nostri territori con un gemellaggio. Il 13 ottobre si svolgerà la giornata mondiale della vista, in questa occasione nelle piazze abruzzesi saranno presenti camper per gli screening gratuiti. A Pescara sarà Piazza Salotto ad ospitare i medici della clinica oculistica di Chieti, diretta dal professor Leonardo Mastropasco. Malattie silentiche colpiscono l'occhio, un numero sempre crescente che rende le cure una conseguenza dei mancati controlli. Il 13 ottobre, in occasione della giornata mondiale della vista, in tutta la regione si svolgeranno screening gratuiti con professionisti del reparto di oculistica dell'ospedale di Chieti. Qui a Pescara metteremo il nostro camper, il camper della IAPB, dell'International Agile Prevention Blindness dell'Abruzzo, che praticamente farà delle viste degli screening sia al mattino che al pomeriggio. Le patologie sono prevalentemente il glaucoma, che è chiamato il lato silenzioso della vista, che è dovuto ad un aumento della pressione degli occhi, ove non diagnosticato il paziente non se ne accorgi, perché non dà sintomi, quindi solo prendendo la pressione te ne accorgi. Quindi basta un minuto per svelare questa patologia e salvare la vista al paziente. Le altre patologie diffuse sono prevalentemente le maculopatie, in modo particolare la maculopatia diabetica, nel diabete che noi sappiamo è un'epidemia, quella del diabete che sta esplodendo e quindi ogni diabetico deve controllarsi il fondo dell'occhio, perché è molto importante non solo per la salute e per il diabete stesso, ma anche per la maculopatia, perché se la prendi per tempo la salvi e le maculopatie legate all'età. Un appello rivolto a tutti, dai piccolissimi ai giovani, contando che in molti casi è possibile intervenire all'insorgere dei primi sintomi. La prevenzione è legata ad ogni età, ogni età ha una patologia diversa ed è chiaro che in pratica noi riusciamo attraverso questi screening fatti dagli oculisti e dagli ortotisti a risolvere il problema. La IAPB è fondamentale in questo. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie A, dal Pescara. Doppio allenamento oggi per i Biancazzurri di Massimo Oddo al Poggio degli Ulivi, tutti a disposizione dell'allenatore Biancazzurro, a parte Ghionber, Manai e Baebek, quest'ultima vale presi con un virus intestinale. Differenziato per Pepe Campagnaro e Crescenzi, da registrare il rientro dalla nazionale dopo gli impegni per la qualificazione ai mondiali 2018 di Ledyan Memusha, impegnato con la nazionale albanese fino a ieri. Intanto oggi ha parlato il portiere Biancazzurro Vincenzo Fiorillo. Lo ascoltiamo. Sì, è una partita particolare perché è una società a cui devo tanto perché sono cresciuto lì dall'età di 10 anni, quindi con la famiglia Garrone ho avuto più modo di lavorare, nel senso che la nuova gestione non ho mai avuto la possibilità di lavorarci, però è una società che porterò sempre nel mio cuore perché è la mia città natale, la città dove sono cresciuto fin da quando facevo i pulcini, perciò è bello essere tornati nello stesso campionato col pescare e poterli di nuovo affrontare. Vincemmo lo scudetto proprio a Chieti, qui vicino, giocando anche una partita a Ortona e un'altra francaviga mi sembra. Erano bellissimi ricordi, infatti sono ricordi che porto dentro perché poi sono quelli che mi hanno fatto affacciare al professionismo. Ho fatto, sì, non tantissime presenze, ero molto giovane, potevo magari a volte sfruttare meglio qualche occasione, non avevo ancora una testa che mi dava una grossa mano, nonostante ora non è che sia vecchissimo, però devo essere sincero. Sono contento di lavorare con lui perché oltre a essere un ottimo portiere è un'ottima persona, ho scoperto, mi fa crescere anche lavorare con lui tutti i giorni, ci confrontiamo parecchio. Come ho detto prima, l'obiettivo della squadra viene prima, uno prova a dare tutto in allenamento, se ci dovesse essere qualche occasione, per provare a mettere un mattoncino in questa salvezza uno deve stare sempre pronto, che faccia una o dieci presenze, l'importante è farle bene. Sarà una partita importante per noi, ma allo stesso tempo una partita alla nostra portata, nel senso che è vero che abbiamo raccolto qualcosa in meno, ma è anche vero che noi siamo in linea con le squadre che lottano per la salvezza, anzi c'è qualche squadra che sta messa a peggio di noi, quindi dobbiamo ogni tanto guardare anche il bicchiere mezzo pieno perché quando vieni da un campionato di B da due anni dove sei sempre nelle posizioni alte, lotti per vincere, sei abituato a una mentalità diversa, scali dalla seconda, terza, quarta posizione, quando ti devi salvare purtroppo devi apprezzare anche il punticino, devi essere bravo a non cavalcare l'onda emotiva dell'opinione pubblica, di tutto, media, perché è una piazza comunque passionale, una piazza pesante, ma allo stesso tempo abbiamo dimostrato che stiamo lottando per quello che è il nostro obiettivo. Scara Sampdoria sarà in programma sabato alle 18 allo Stadio Adriatico e sarà il secondo impegno interno consecutivo per la squadra Biancazzurra. Cambiamo decisamente argomento perché si è chiusa con l'assoluzione di Claude Di Menno di Bucchiani, rappresentante legale della Virtus Lanciano, il caso penale sul mancato pagamento nei termini dell'IVA dovuto all'agenzia delle entrate da parte della Virtus, che costò all'ex società rossonera anche punti di penalizzazione nell'ultimo campionato di Serie B, poi culminato con la retrocessione dopo il play-out contro la Salernitana. Il reato è stato estinto, come prevede la nuova legge, per intervenuto pagamento dell'IVA e VASA nel 2012 con interessi e sanzioni. Scendiamo in Lega Pro adesso sabato, il Teramo sfiderà il Venezia di Filippo Inzaghi, partita che sarà diretta da Giovanni Luciano di Lamezia Terme, intanto il difensore biancorosso Stefano Scipioni si dice fiducioso per la trasferta e parla della condizione personale e della squadra. Il momento è positivo, perché è venuto un allenatore nuovo, con i suoi concetti noi cerchiamo di applicarci e applicarli al massimo, fino adesso ancora non perdiamo, quindi siamo soddisfatti. Col 3-5-2 diciamo che abbiamo molta più superiorità a centro campo, quindi i tre centrali dietro sono più coperti e sono liberi di palleggiare, poi si sentono più protetti perché sono appunto tre centrali. Con quel modulo io mi trovo bene, ma anche con il 4-8-2 mi trovo bene. Non abbiamo iniziato benissimo, anzi, però noi siamo convinti che siamo forti, siamo una squadra molto forte, umile e di persone molto applicate e quindi siamo sicuri che ci tireremo fuori da questa situazione per cercare di ottenere minimi play-off. Io cerco sempre di dare il massimo quando sto in campo, poi da luglio che mi porto dietro un problemino al tendine, ma non è una scusa, anzi, perché quando vado in campo cerco di dimenticare i dolori. Mo' grazie ai dottori e ai fisioterapisti sto risolvendo questo problema e spero che possa raggiungere la mia condizione migliore al più presto possibile. Sì, vedendo la classifica, sappiamo che confrontiamo una squadra fortissima con un allenatore che ha fatto la Serie A e ha giocato la Champions League, quindi gli stimoli vengono da soli. Poi noi dobbiamo essere bravi a fare quello che ci dirà il mister e a metterci del nostro sabato, perché sappiamo che loro sono molto forti, sarà una partita molto difficile e chi sbaglierà meno vincerà. Scegliamo in Serie D adesso, perché il Pineto proprio oggi ha annunciato l'esonero del tecnico italiano-argentino Aldo Ammazzalorso. Al tecnico è stata fatale la serie di quattro sconfitte consecutive, di cui l'ultima a cui si riferiscono queste immagini, interna di domenica contro la San Maurese per 2-4. Al suo posto arriva Daniele Amaolo, tecnico conosciuto da queste parti e che l'anno scorso aveva guidato la Vispesa, ma anche ex Morrodoro, ex Angolana. Il neotecnico ha diretto oggi pomeriggio il primo allenamento e preparerà la sfida, la trasferta di domenica prossima, molto importante a questo punto a Castelfidardo. E questa era anche la nostra ultima notizia e vi ricordo questa sera, a partire dalle 21, l'appuntamento con la Lega Pro, con i loro colori bianco-rossi del Teramo con Proteramo, il TG6 torna questa sera puntuale alle ore 23. Buonasera. Grazie a tutti.